Un nuovo presidio per il Comitato Olimpico Nazionale che consolida la sua presenza sul territorio della provincia di Barletta, Andrea Trani, con l'inaugurazione di una sede a Barletta in via Giacomo Corcella. Quello dell'apertura di una sede fisica che possa rappresentare un punto di riferimento per le società sportive del territorio è stato un obiettivo perseguito dal delegato provinciale Cuni Antonio Rutigliano sin dal suo insediamento e, sottolinea lo stesso Rutigliano, sarà il punto di partenza per le future attività del Comitato nella BAT. Ne avevamo particolarmente bisogno per poter continuare a sviluppare quel progetto di integrazione tra sport e cultura e sviluppare naturalmente anche tutti i rapporti con le istituzioni scolastiche, con il mondo delle associazioni sportive e anche con le amministrazioni comunali perché non ci nascondiamo che le problematiche da affrontare sono davvero tante, a cominciare dalla gestione degli impianti al completamento dei lavori per l'impiantistica sportiva e poi perché i nostri progetti naturalmente richiedono sicuramente una maggiore attenzione, una maggior partecipazione da parte di tutti. Da oggi le società sportive hanno sul territorio una sede di riferimento e quindi potranno rivolgersi a noi in tutta tranquillità per poter essere supportate. Nei progetti del CUNI sul territorio anche a livello regionale ha invece parlato il presidente pugliese del Comitato Olimpico, Angelo Giliberto. C'è un progetto nazionale che sono i centri CUNI, sta andando bene, poi faremo come abbiamo fatto negli anni passati anche gli EduCamp che è la continuazione sperando che poi qualche associazione e siccome c'è lo stadio aperto e si allenano può tirare fuori qualche ragazzo per il trofeo CONI a settembre di quest'anno. L'impegno del Comitato Olimpico nazionale nella BAT e nella città di Barletta in particolare è stato invece sottolineato dalla dirigente nazionale CONI Cecilia D'Angelo con riferimento al rifacimento della pista d'atletica dello stadio Puttilli, in pianto ancora in attesa di essere interamente consegnato alla fruizione del pubblico. Assolutamente sì, anche qua la pista e poi lo stadio, siamo impegnati ormai da tempo e ci auguriamo Presidente che presto si possa organizzare un'attività all'interno, un'attività importante.